Siamo sempre così preziosi di consigli noi e soprattutto adesso da Dolce Nonapapera in via Matteotti a Sala Consilina ritroviamo questo centro dove ci sono tante leccornie, tante idee anche per i nostri prossimi regali venite con me E da Dolce Nonapapera incontriamo di nuovo Alessia Ciao Alessia come stai? Un piacere ritrovarti Anche per me ci eravamo un po' persi Eh sì perché poi quegli ottimi consigli capiscimi perché poi il palato vuole la sua parte qui c'è veramente di tutto anche per tutti i giorni io ti preferisco con i cioccolatini, liquirizzi e caramelle Parliamo invece di questo Natale, di questo 2015 come ti sei organizzato e che cosa proponi? Allora quest'anno c'è stato un consolidamento delle vecchie marche, abbiamo continuato a trattare le marche che avevamo anche in passato quindi per quanto riguarda i panettoni, Flaminio e Scarpato, accontenteremo i gusti classici quindi il panettone insieme al pandoro tradizionale, qualche gusto, qualche palato un po' più delicato con qualcosa al rum un liquoroso un liquoroso, ma anche cioccolato bianco e pistacchio e per i golosoni come te mi sembra Eh sì, ci riconosco Sì, tutto cioccolato, cioccolato fuori, cioccolato dentro, l'esplosione del cioccolato Una buffata insomma Una buffata, sì ma qui, come dicevo pure prima Alessia, abbiamo anche tanto per tutti i giorni addirittura per le nostre torte, ricordiamo che cosa hai Certo, allora, da un po' di anni a questa parte diciamo che è esplosa la mania, per fortuna, di fare le torte in casa usando la pasta di zucchero, quindi dando sfogo alla propria fantasia ogni massaia dà sfogo alla propria fantasia creando le torte in base alle richieste dei propri pargoli, eccetera, eccetera e qui possono trovare pasta di zucchero, i coloranti, gli attrezzini insomma tutto ciò che serve per realizzare le loro piccole opere d'arte in casa Ma guardate che bel posto che è questo e poi andiamo all'ultimo momento delle festività di questo periodo ed è la Befana, alle nostre spalle abbiamo qualcosa? È qualcosina, giusto qualcosina Quest'anno tutte le calze abbiamo deciso di darle a prezzi stracciati praticamente su tutte le calze c'è il 50% quindi venite qua da noi, troverete anche le calze per i più grandi ma per i più piccini i personaggi del momento quindi Minions, Masce e Orso tutti quelli che vanno adesso per la maggiore tutto scontato al 50% è un grande evento allora vi posso assicurare che qui troverete sicuramente l'oggetto giusto prezzi vantaggiosissimi, ammazza crisi due ultimi argomenti il primo lo dico io perché ti ritrovi in via Matteo che è stata la consiglina il secondo gli auguri invece aspettano a te tanti cari auguri a tutti quanti buone feste Grazie a tutti.